È impossibile risolvere problemi concreti solo parlando. Ci vogliono i fiori di bacco. Innanzitutto parlare ci aiuta a cambiare il modo con cui diamo significati al mondo. E i viaggi che portano alle scoperte maggiori non sono quelli in cui si vedono mondi nuovi, ma quelli in cui rivediamo mondi conosciuti con occhi diversi. Giornata nazionale della psicologia. Sei invitato sabato 15 ottobre a Genova, in piazza della Vittoria 11b, presso la sede dell'Ordine degli Psicologi, per conoscere la psicologia Ligure. www.ordinepsicologiliguria.it